Diciamo se si è abituati a usare, a prescrivere un farmaco oncologico da tanto tempo, usare più che altro, più che prescrivere dei farmaci oncologici, si può, diciamo, per una forma di abitudine, di continuità terapeutica, e considerando che il paziente oncologico è un paziente fragile, un paziente particolare, con questa idea in mente si può avere una maggiore reticenza al passare da un farmaco originator a un generico. Così come, per esempio, ci sono altri settori, per esempio tipicamente il paziente epilettico, l'epilessia è un'altra nicchia in cui è spesso difficile trovare una, per ogni determinato paziente, una risposta al trattamento. Quando si riesce a trovare un compenso soddisfacente, quindi uno o più farmaci per cui poi il paziente raggiunge un equilibrio accettabile, quindi di prevenzione delle crisi, allora in qualche maniera si preferisce mantenere una continuità terapeutica anche nei termini di mantenere esattamente lo stesso prodotto. E proprio per salvaguardare questi aspetti di nicchia, che però non vanno comunque generalizzati, c'è da ricordare che c'è sempre la possibilità di indicare specificamente un determinato prodotto da parte del medico prescrittore. Questo diciamo dove si ritiene che ci siano delle esigenze particolari nel dover assicurare una continuità terapeutica, per cui il medico ci mette quel minuto in più nel compilare la ricetta a dire allora voglio questo prodotto, per favore che sia questo piuttosto che un altro. C'è da dire che anche in ambito oncologico, perché esattamente il 7 è la domanda, oramai la stragrande maggioranza, anzi la totalità dei farmaci storici, per esempio i derivati del platino, sono oramai erogati tutti quanti negli istituti in cui vengono somministrati facendo riferimento al farmaco equivalente, proprio per un problema di costo ma di dimostrazione di totale affidabilità. È diversa, dicevamo anche prima, la normativa sui farmaci cosiddetti biosimilari che interessano un'altra classe di farmaci molto presenti in oncologia e sulle quali bisogna completare e acquisire certezze, ma tipo il platino, i taxani, i farmaci antineoplastici di uso storico, oramai sono largamente usati e erogati dalle farmacie degli istituti oncologici acquistando il prodotto equivalente. Anche perché per fare un breve accenno alla questione dei costi delle terapie, in oncologia i farmaci nuovi che arrivano hanno dei costi che adesso tanto per dare un po' di numeri rispetto ai 20 euro a scatoletta che sembravano tanti, adesso che sono diventati 2 euro a scatoletta sono più accettabili. Ci sono farmaci che arrivano in questo momento sul mercato per cui il costo anno della terapia supera abbondantemente i 100.000 euro per paziente, per cui se noi abbiamo per esempio 4-5 mila pazienti in Italia che hanno un determinato problema oncologico, fate un semplice calcolo di moltiplicazione e vedete i nuovi farmaci quanto possono arrivare a costare.